Viva i Pokémon, sempre più frizzanti, maggi... Benvenuti a questo nuovo episodio horror! Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy e oggi, per la vostra gioia, ma soprattutto per la mia... Siamo tornati su un horror! Per dare più... Capito, no? Ma per il vincere saluto le quattro persone che nello scorso video hanno scritto i commenti più divertenti. Sandro Piras, Barbara Vitiello, Aldox21 e Lorenzo Vecchio. Ciao ragazzi! E il vincitore di oggi... Sandro Piras, grandissimo! E vi ricordo che se volete essere salutati vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. Direi che possiamo andare a guardare! Bloody Mary! Ok ragazzi, ci siamo. Va bene. Accendiamo le candele. Ma accendiamo anche il lampadario, eh? Se proprio vuoi. No. Va bene. Bloody Mary, raga. Sarebbe una tizia che appare... Se la nomini... Attraverso lo specchio. Quando non è nulla da fare... Certo. Bloody Mary. Brava. Ecco, già la candela ha fatto qualcosa di strano. Non è un buon segno, eh? È già morta? Che è successo? È crashata. Bloody Mary! Bloody Mary! Sto per crepare! Io la smetterei, eh. Comunque. Fai tu. Vabbè. Non lo dire. Mamma mia, raga. Bloody Mary. L'ha detto. A posto? Va bene. Che? Hai visto un brufolo? Io però non posso prendere questi infarti. Ecco. Bloody Mary. È di là che si sta facendo un paninazzo alla mortadella. Palla ancora un po' più di casino. Già che ci sei. Brava. Magari non t'ha sentito. Mamma mia, raga. Mo' sbuca. Una roba incredibile. Cioè? Cioè, ogni cosa dentro sta casa fa rumore. Mamma mia. Questa non torna, raga. Ma era il gattino. Ma siamo seri? Eh. Mi hai fatto cagare sotto. Pensate al gattino. Ah! Era il gatto, eh? Eh. Ma c'è un'app per vedere quanto mi resta da vivere? Cioè, ogni infarto perdo 15 anni di vita. Mi restano 28 secondi. Ma ne abbiamo un altro. Che bello. Va bene? Ok. Anche lei. Con la candela. Giusto. Vai anche tu a fare sta cagata. Brava. Ecco. Si sta cagando sotto. La rimedi. C'è un altro gatto per caso? Che fai? Ecco. Bravo. Hi, guys. I just took up the Bloody Mary challenge. Now I thought I'd make a video out of it. I know. My friends wouldn't believe me. Diciamo che ho capito tutto. Ma in realtà non ho capito un cazzo. D'accordo? Bloody Mary. Bloody Mary. Basta dirlo. Bloody Mary. Ma perché lo rifà? Ma è pazza. Basta. Bloody Mary. Eh? E mo? Sì. Hai visto? Va bene. Aprile. È tutto finto. Ecco. Ma che? No vabbè raga però. Cioè. Mi spavento di più quando bussano alla porta. Ma non andare ad aprire. È appena fatto Bloody Mary. Dai. Madonna. Insiste. E niente. Non penso sia quello di Spidipizza. Ancora con sto telefono. Madonna. Ma poi perché non accendi le luci? Ma in giro con la candela. Oh e basta però. Mo' apre raga. E' pazza. Sarà Bloody Mary? Perché mi hai chiamata? Ha finito. Che è sta musichetta a caso? Cos'è? Raga? Che le sta succedendo? C'è qualcuno? Non ti gira. Scappa. Non mi... Mamma mia raga. Sto cagando sotto. Niente. Mamma mia. Non ti girare. Ma perché continui a voler aprire questa porta? Niente. È andata. Ma chi è questo? Ha bussato 48 minuti? Vabbè. Ok. Tutto normale. Sì. Secondo me... Lui è un problema. Che sollievo. Ahah. Non me lo dire. È quello che è entrato, vero? Chi è quello? No, vabbè. Mi risponde pure. Ehi. Scusate che mi arrivo a casa tardi. Vuoi prendere qualcosa per te? Mamma mia. Sta piagendo. Mamma mia, brutta cosa. E lei sta lì, così. Oh, non scappare. Perché? Mamma mia. AAAAAH! Bene, raga. Abbiamo capito che fare Bloody Mary non è un'idea bellissima. D'accordo, ragazzi? Io direi di concludere qua. Prima che mi ritrovano morto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. A me è un sacco. Se così fosse stato, mi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo inoltre che in descrizione troverete tutti i link dei miei social. Instagram, Facebook e Google+. Quindi se volete, seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E io, ragazzi, vi do l'appuntamento. Ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi.